benvenuti tutti quanti a questo nuovo incontro di danzare con la tempesta oggi è il turno di si michael smith antropologo medico analista jungiano e sciamano cerocchi è stato allievo di polo ricorre e nella sua vita ha avuto modo e la fortuna di entrare in contatto con diverse popolazioni tradizionali che hanno iniziato allo sciamanesimo e alcune arti del curanderismo ed è creatore della della respirazione sacra in inglese una dei più potenti momenti terapeutici dopo gli psichedelici autore di psychotherapy and the sacred e del tradotto anche in italiano jung e sciamanesimo l'anima tra psicanalisi e sciamanesimo edito amric edizioni la sessione live è tradotta come dicevo da elisa bezzòia che nel suo percorso come traduttrice ha svolto un ottimo lavoro nella traduzione del carteggio tra gli un man pubblicato nel 2019 press moretti e vitali bene bene di ascolto affinché sia di beneficio per gli esseri del cosmo per la terra e per tutte le nostre relazioni grazie Michal for being here and we are waiting for you it's my pleasure thank you alberto for again hosting me and for elisabeth my very fine translator and i want to say i will speak a few lines and then i will pause for her to translate in italian i learned that elisabeth comes from a family of four jungian analysts and this is perfect for this broadcast because uh i'm going to focus on the psychological and shamanic wisdom of jung for a time like this ok ha sentito che io provengo dalla famiglia di jungiani ha detto che è perfetto per questo webinar perché lui si focalizzerà sulle aspetti psicologici della saggezza sciamanica so i'm going to uh address several questions the first question is what kind of situation are we really in quindi lui toccherà varie domande la prima è in quale tipo di situazione ci troviamo realmente the second question is a diagnosis la seconda è una questione di diagnosi you know what causes this cosa ha causato questo the third question is what is a psychic contagion e la terza è cos'è un contagio psichico and the fourth question is what is the solution or the way to navigate all this so i'm going to rely on jung more than shamanism so it's going to be psychological uh primarily as i quote some things from jung quindi sarà focalizzato più su jung e sullo sciamanismo quindi sarà innanzitutto un discorso psicologico in un video con la bbc del 1959 jung ha detto le seguenti cose le catastrofi giganteste che ci stanno minacciando in questo momento are not uh they're not elemental happenings ma non sono elementari non sono degli eventi elementari or a physical or biological order o non sono neanche di ordine fisico o biologico ma sono eventi di tipo psichico ma sono eventi di tipo psichico in ogni momento varie milioni di persone possono essere toccate da una nuova follia e a quel punto ci può essere o un'altra guerra mondiale o una rivoluzione devastante il mondo è appeso a un filo molto sottile e questo filo è la psiche e questo filo è la psiche ci troviamo in un grande pericolo cosa succederà se qualcosa va male, va storto con la psiche l'intero mondo sembra essere chiuso in una quarantena per una pandemia e anche una pandemonia le persone vivono nella paura a causa di questo coronavirus le persone vivono nella paura a causa di questo coronavirus non sappiamo quante persone verranno contagiate e quante moriranno e questo conduce a diverse paure perderemo il lavoro non avremo più abbastanza soldi non avremo più abbastanza cibo per le nostre famiglie quando avrà fine questa crisi e cosa sarà rimasto del mondo che conoscevamo quando sarà finalmente finita queste sono alcune di queste paure che centinaia di milioni di persone stanno attraversando in questo momento forse addirittura miliardi e poi c'è la paura dell'ignoto non possiamo affidarci ai mass media che ci diano solo fatti, solo informazioni fattuali ogni giornale esagera con i propri titoli poi se si legge effettivamente l'articolo non è che ci siano grandi notizie, solo ulteriori numeri e anche gli esperti, i medici non sono d'accordo tra loro le informazioni e anche quello che dovremmo fare e non fare continua a cambiare sì, certo, dobbiamo lavarci le mani, non toccarci il viso la cosiddetta social distance la distanza sociale ovviamente lo faccio anch'io, non sono scemo neanche io voglio prendermi questa malattia ma non credo che morirei se fossi contagiato potrebbe succedere e ok, se succede, posso affrontarlo ma sono un uomo vecchio e per molte persone più giovani questo non è accettabile e ovviamente lo posso capire ma sembra che gran parte delle persone sopravvivano e sopravvivano anche bene a questo virus ma ogni giorno i giornali dicono quanto sono grandi i numeri di persone colpite ogni giorno questi numeri sono molto più grandi del giorno precedente questo aumenta la paura e questa è la situazione attuale che viviamo in uno stato di paura che è anche generata e amplificata dai media ma ci sono anche così tante narrative su cosa è stata la causa di tutto questo questi tipo di narrativi si possono trovare in vari contesti anche ad esempio nei post su facebook ci sono teorie di conspirazioni diverse alcuni dicono che il 5G sia stata la causa, la base di tutto alcuni dicono che è una sorta di guerra biologica che sta andando male alcuni dicono che stiamo per entrare in un futuro orwelliano da Orwell in cui abbiamo sicurezza ma nessuna libertà è difficile sapere cosa sia effettivamente vero quale sia la verità in questa situazione e questo ci confonde e questo ci confonde non sappiamo cosa credere non sappiamo cosa credere non sappiamo chi stia effettivamente dicendo la verità oppure crediamo troppo facilmente forse non siamo abbastanza sospettosi ma in una tale situazione nessuno può essere certo sapere con certezza chi abbia veramente ragione e chi no quindi bisogna veramente fare la propria ricerca cercare le proprie fonti bisogna controllare poi queste informazioni che ci arrivano fare come un test per lo minimo interiore con la nostra intuizione che ci dica se è plausibile o meno questa informazione che ci arriva da un punto di vista psicologico non è una buona idea di affidarsi a quello che dicono i giornali le opinioni di altri è importante fare il proprio lavoro con una mente razionale e un cuore istintivo e di decidere ognuno per sé che tipo di situazione è c'è un grande caos nella situazione dell'ignoto e ci sono due tipi di caos caldo e freddo il caos caldo sono delle energie che vanno come pazze e che ti accendono come un albero di Natale paura, panico, questo genere di rabbia, di emozioni il caos caldo il caos caldo e poi c'è il caos freddo che è la depressione che è la depressione la disperazione la disperazione la mancanza di paura un senso di impotenza e di essere vittime e il desiderio che qualcuno arrivi a salvarci da questa situazione abbiamo caos caldo o freddo quando non viviamo dal nostro centro abbiamo un caos caldo o freddo quando non viviamo dal nostro centro l'archetipo del sé l'archetipo del sé di cui parlava Jung dunque qual è la diagnosi per la situazione in cui ci troviamo ci sono due diagnosi anche qui ci sono due diagnosi c'è il microbo il Covid-19 il primo è? il microbo il virus sì allora c'è appunto questo microbo il Covid-19 e la seconda è quello che Jung chiamava contagio psichico o mentale c'è un virus biologico c'è un virus biologico e poi ci sono tutti i significati emotivi, psicologici e sociali che mettiamo attorno a questo virus e questo contagio psichico può essere più morto e destruttivo che il virus biologico e questo contagio psichico può essere più distruttivo e mortale del virus, cioè di quello biologico Jung ha parlato di questo contagio psichico in diversi volumi delle sue opere complete quattro, cinque, otto, dieci, diciotto in diversi scritti ne ha parlato molto perché ha osservato proprio gli anni, i dieci anni dell'ascesa al potere del regime nazista e quindi anche dell'ombra tra un attimo vorrei di nuovo citare Jung stesso ma prima vorrei dire qualcosa sull'archetipo dell'epidemia ci sono state molte epidemie nella storia dell'umanità e alcune di queste sono state anche allo stesso tempo pandemie ad esempio nell'ottocento in Algeria c'è stata un'esplosione di colera che ha costretto intere città a chiudersi completamente Albert Camus ha scritto il libro La Peste Albert Camus ha scritto il libro La Peste trasformandolo in un racconto, in un narrativo in cui possiamo vedere anche su piccola scala che aspetto ha una pandemia All'inizio c'erano solo un paio di ratti morti nelle strade, sorry, in the streets of? of the city, Oran ok, ah, nelle strade di questa città, Oran ma nessuno gli ha dato peso maybe that's odd that's strange ma nessuno sorry strange, l'otanger strange and then more and more rats until there were thousands of rats in the streets and in the plaza e poi sempre più ratti finché c'erano migliaia di ratti nelle strade e nelle piazze e quindi anche la sanità ha chiesto proprio ai cittadini stessi di aiutare a raccogliere e a bruciare i ratti, i cadaveri dei ratti e questo è stato quello che ha fatto, che ha permesso al contagio di raggiungere la popolazione anche umana dal primo essere umano che è morto poi c'è stato proprio un contagio pubblico e tutti sono impazziti sì la città era completamente chiusa e isolata e c'erano poliziotti e militari anche ai buoni della città per evitare che persone fuggissero o entrassero e inizialmente il sinaco della città minimizza la gravità della situazione ma ci sono voluti molti molti mesi perché questa malattia potesse effettivamente, diciamo, l'onda del contagio e quindi anche delle vittime potesse abbassarsi, appassarsi, appassarsi. spiattirsi fino a poi a discendere completamente e durante il periodo di questa malattia ci sono anche lì state molte informazioni false e anche molte persone che hanno cercato di guadagnare da questa crisi non so come sia in Italia ma posso anche osservare questo fenomeno attualmente negli Stati Uniti e questo è proprio caratteristico di questa pandemia è proprio come archetipico che affiorino poi anche questi fenomeni diversi anche di approfittarsene. Ora parleremo del contagio psichico in termini jungiani ma sempre tenendo conto che in questo caso il coronavirus è stato il fattore scatenante per questo contagio psichico. e quello che Jung ha chiamato l'archetipo dell'ombra è quello che viene fatto, diciamo, scattare, che viene attivato in un contagio. L'ombra è composta da quelle parti di noi con cui non ci piacciono e con cui non ci riusciamo a identificare. possono essere istinti che reputiamo bassi e negativi, possono essere tendenze emotive, abitudini anche emotive, possono essere desideri. quindi ci disconnettiamo, dissociamo e le reprimiamo. e più le ignoriamo, più crescono e diventano forti all'interno della nostra psiche. e invece di affrontare e accettare e accettare e espressare in un modo creativo, ciò che noi umani facciamo individuamente è progettare le su altri. E quello che facciamo anziché affrontare e integrarle come esseri umani è tendenzialmente proiettarle su altri. Quindi poi accusiamo e giudichiamo altre persone per le stesse cose che in realtà facciamo noi stessi. quando lo sciamano Gesù disse di non vedere la pagliuzza nell'occhio dell'altro, di vedere quella quando in realtà è una trave nel tuo stesso occhio, lui stava proprio alludendo a questa proiezione dell'ombra. Quindi questo è quello che avviene a livello individuale del singolo individuo, però Jung aveva anche un concetto di ombra collettiva. Quindi la collettività, nel senso la società, una cultura, ha anche la propria ombra. ed è composta dagli stessi elementi, cioè di quello che la società disconosce, dice che non bisognerebbe fare, essere, volere, che reprime, quindi. Quindi anche la società poi lo proietta su altri. Ad esempio le persone bianche possono proiettare un'ombra collettiva su persone di colore. Ad esempio nell'Occidente oggigiorno si tende a proiettare quest'ombra collettiva molto su dei terroristi e loro poi a loro volta la proiettano su di noi. E' come se ogni lato, ogni gruppo di persone stesse proiettando il diavolo sull'altro gruppo. L'ombra collettiva, la società, tende a formare così. Si proiettano come un tipo di figura, come un dèvolo, un demone, un monstro, un antichrist, un Hitler, qualcuno che va arrivare e ti prende. Sì, di solito poi quest'ombra collettiva assume una forma abbastanza concreta, come ad esempio un anticristo, un mostro, Hitler, un diavolo, un demone, che poi viene appunto proiettato su un altro gruppo. A questo punto, Alberto, vorrei chiesto di mettere le immagini dei parasiti. Non ancora. Un minuto. Qui siamo. Qui siamo. Qui si è. Qui, con la parola, con la parola, con la parola, con il mio amore. Qui sono membriere una canale con un gruppo di duellente di l'Unione degli amore. Qui sono una canale con la parola di Bocchi. Qui sono. Qui. 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 figura che la shadow e l'immaginazione che lavorano insieme sfruttano in modo che puoi avere un'immagine per concentrare e vedere la shadow. Parasites, ok? Quindi come di questa figura che crea molta paura, è rappresentato quello. Ok, puoi passare avanti al loro libro. Shadow Tech, questo libro è pieno di sfruttare, è profondamente influenzato da Jung e troverete quello che diciamo sull'immaginazione e molte altre cose che hanno a riguarda con la shadow projection e l'ombra del corpo, e cosa è la soluzione. Ok. And you can go on to the next slides. Puoi passare alle prossime slide? There's one of contagion, hysteria right here, of French nuns. Ce n'è una qui di... right there. This is taken from a Polish film of a French nunnery going crazy with hysteria back in the 17th century. Okay, nel 17th secolo è preso da un film, a French film on Polish nuns, or the opposite. It's a Polish film on French nuns, okay. It's a Polish film on French nuns, okay. It's a Polish film on Polish nuns, okay. This is a Polish film on French nuns, okay. It's a Polish nuns, okay. oppure appunto un'infezione psichica che poi sfocia fino a contagiare l'intera collettività. Ok, and let's see the next picture, Alberto. Vediamo la prossima immagine. There's Godzilla, Japanese cinema figure of a monster. And these images actually give us a light, a way to see the force, to imagine it, but in fact the shadow really operates invisibly. L'ombra agisce poi in modo invisibile. Nonostante ciò, quando questa ombra collettiva poi sfocia, siamo tutti contagiati. Ok, ora passiamo all'immagine psicosomatica di un artista fiammingo. Ok, quindi queste sono persone che hanno tutti disturbi psicosomatici, quindi qualcosa di psichico che è stato delegato al corpo e che ha attivato un disturbo poi anche effettivamente a livello fisico. And as Melissa Mari and Colin E. Davis point out, a situation like this pandemic and the contagion can create un artista fiammingo psicosomaticamente a livello psicosomatico. E questo fa sì che il sistema immunitario si indebolisca. And the viruses that are in them or around them, they start having symptoms and perhaps get a virus. And they start worrying, oh, do I have it? Do I have corona? E quindi anche i virus che hanno già dentro al loro corpo o vicino, ma anche altri tipi di virus più lievi, comunque sono facilitati a sfociare e queste persone poi si preoccupano moltissimo domandandosi se sia effettivamente il coronavirus. E quindi questo, diciamo, accoppiamento tra la paura e poi il contagio psichico può anche risultare, o anche un contagio di un semplice virus di altro tipo, molto meno grave, può però far destare tali preoccupazioni che creano confusione e fanno pensare che si sia effettivamente contratto questo virus, il coronavirus. Ora leggerò alcuni passi da Jung stesso. E' un contagio psichico che è stato causato, come sappiamo, non da verità logica o biologica? Logica. Non da verità logica. Ma dagli affetti, quindi dalle emozioni e dalle loro manifestazioni psicologiche. Dice anche che il contagio è un tipo di partecipazione mistica. E' un concetto antropologico di popoli tribali che in determinate situazioni di cerimonia e si fondono insieme in una coscienza collettiva. E quindi si fondono in un futuro anche nel senso del sentire, che iniziano a sentire ciò che sente l'altro. E ad un certo punto vi è una coscienza di massa. In volume 18, Jung writes, Le emozioni sono le veri portatrici del contagio mentale, le emozioni. Quando ti trovi in una folla, che è mossa dalle emozioni, non puoi fallire non puoi non essere, diciamo, non puoi non essere contagiato e anche attivato dalla stessa emozione che sta attraversando questa folla in cui ti trovi. I want to repeat. When you are in a crowd which is moved by emotion, quando ti trovi in una folla, ripeto, mossa da una determinata emozione, non puoi non essere attivato e quindi anche contagiato da questa stessa emozione. E nel volume 17, Jung descrive i pericoli della conformità sociale che predisposano al contagio. Nel volume 17 parla dei pericoli del conformismo sociale che ci predispongono a questo tipo di contagio psichico. Se c'è un grande numero di individui che possegono questo grado di acquiescenza, il conformismo, il conformarsi, si diventa uniformarsi. Più è grande il numero di individui che si conformano, più è forte la pressione inconscia. la pressione su tutti coloro che, a torto o a ragione, cercano di resistere a questa pressione collettiva. La massa o la folla ha un'influenza, influisce in modo compelling, anche come dire, ossessivo, perché comparsi anche ossessivo. Influenzial. attraverso il contagio psichico inconscio. Poi arriva l'aspetto più importante, sempre di U. questo può avere un effetto distruttivo su quegli individui che non hanno una forza di carattere più forte della media. o addirittura rischia proprio di estinguerli completamente, quindi di distruggere completamente queste persone. quindi nel contagio abbiamo una psicologia di massa collettiva. Quindi nel contagio abbiamo una psicologia di massa collettiva. I'm sorry, the connection went away. Everybody? Everybody is afraid and is projecting their fears on each other. Quindi ognuno ha paura e proietta le proprie paure poi sugli altri. E quindi c'è poi una psicologia di massa, di gruppo, di folla. La sofferenza poi è così grande che le persone iniziano a chiamare per la sicurezza e la ristorazione dell'ordine. disperatamente chiedendo sicurezza e anche chiedendo di tornare a un ordine. E questa è esattamente la stata la connessione psicologica in Germania che ha reso possibile l'ascesa al potere di Hitler e che poi gli ha permesso di dire io ho una soluzione. E Jung dice quando accade questo la massa poi dopo corre verso questa figura, verso questo personaggio. quindi io condivido queste saggezze di Jung non per spaventare ma per aiutarci a vedere effettivamente e chiaramente la situazione in cui ci troviamo. quindi a questo punto a Fiorale domanda ok allora qual è la soluzione la medicina la via d'uscita cosa ci può aiutare in questa situazione? io ne trovo due di soluzioni una viene da Jung una viene da Jung Jung dice che in un contagio è la ragione che abbiamo bisogno la maggior parte non la sentenza non l'emozione ma la ragione questo è interessante perché in genere Jung parla molto dell'istinto dell'intuizione di ciò che ci ispira di aspetti di altro tipo ma in questo genere di situazione parla proprio dell'importanza della ragione una forte consapevolezza dell'io e un forte carattere quindi lui propone un lavoro interiore di entrare in contatto con la propria anima col personale proprio archetipo e di viverlo quindi con il lavoro interiore lui dice guarda vedi la situazione che hai intorno a te vedila anche il corrispottivo dentro di te e lavoraci dialoghi con il tuo shadow entra in contatto entra in contatto comunica con la tua ombra e compasione sì e entrare in contatto con la compassione con l'empatia bisogna amare e accogliere l'ombra perché se la si rifiuta diventa solo più forte bisogna ringraziare per i suoi insegnamenti e chiedere anche come si può ridurre la sua sofferenza in modi creativi ma non far venire ancora più paura a se stessi e non ferire altri quindi Jung ci chiede di entrare nelle profondità del nostro stesso essere di affrontare di guardare la propria ombra e di entrarci in contatto in relazione anche a livello conscio e di smettere di proiettarla là fuori questo accresce la nostra individualità e ci distanza e quindi ci distanza anche ci protegge dalla psicologia di massa e se ogni persona fa questo pian piano si riduce anche il potere la forza di questa psicologia di massa Jung era abbastanza realista per rendersi conto che gran parte delle persone non avrebbero affrontato questo cammino ma voi potete farlo io penso che Jung scrivesse principalmente per persone introverse per persone di lui ha individuato una tipologia di quattro tipi e lui scriveva principalmente per i tipi di persone che sono più orientati al sentire e al pensare quindi anche più di tipo introverso e queste sono le persone ovviamente che hanno più probabilità di mettersi effettivamente in gioco e fare questo lavoro su di sé ovviamente più persone fanno questo poi più beneficiano anche altre persone attorno a loro e può aiutare anche a calmare altre persone attorno che non fanno questo tipo di lavoro interiore e ha anche detto che ogni persona ha un modo naturale di individuarsi secondo il concetto appunto di individuazione e di vivere dunque una vita semplice e che ognuno di noi in ogni caso ha uno spirito unico indipendentemente dal fatto se siamo persone poi semplici nel senso genuino, in senso positivo o persone molto complesse, travagliate ogni persona ha un carattere ogni persona ha un carattere estremamente individuale io traduzzo l'archetipo di te l'archetipo di te l'archetipo di te, sì io lo traduco con, c'è questo concetto poi lo esprimo con l'archetipo di te tutti hanno il proprio personale, unico modo di essere, sì ovviamente i tuoi pensieri non sono il tuo carattere sono semplicemente il modo in cui sei abituato a pensare e anche le tue emozioni e le tue azioni non sono il tuo carattere il tuo carattere è invece il tuo carattere è il modo in cui poi decidi tu di provare queste emozioni e di esprimerle il tuo carattere non è ciò che crei ma il modo in cui lo crei è proprio grazie al carattere che poi ci riconosciamo l'un l'altro come essere unici e diversi il tuo carattere è tanto unico quanto la tua impronta digitale quindi una persona potrebbe essere anche completamente cieca e riconoscere comunque un carattere perché il carattere è invisibile perché il carattere è invisibile ma possiamo sentirlo a livello di sensazioni ma anche sentimenti è un aspetto, io lo chiamo l'archetipo del tu perché è un aspetto, io lo chiamo l'archetipo del tu perché è un aspetto, è come un motivo che tu vivi e incarni Jung parla dicendo che parlando di individuazione e di incarnare il proprio sé quindi un modo per incrementare la tua resistenza nel senso la tua protezione sia al contagio psichico che al virus in sé è di rafforzare il tuo carattere è di rafforzare il tuo carattere lascia che ciò che realmente sei risplenda attraverso di te in ogni momento, in ogni relazione e in ogni azione in ogni luogo e in ogni momento lascia risplendere il tuo carattere quindi ora avete tutto questo tempo a disposizione in quello che chiamiamo appunto isolamento sociale che non è tanto una crisi quanto una grande opportunità porta ad esempio il tuo carattere ai tuoi figli alla tua famiglia esprimilo puoi leggere libri puoi scrivere poesie puoi ringraziare i tuoi avi e osservare e osservare una notte stellata parlare alle tue piante io insegno ai miei studenti questo canto chechua che è è chiamato chukui è un saluto dal cuore è un saluto dal cuore a ogni essere che incontri a ogni luogo e a ogni momento si chiama questo chukui shungguan kui an yumi chukui shungguan kui an yumi chukui shung pukbraan kui an yumi chukui shungبي pan ku an yumi şöyle niente apri il cuore in modo , con amore e saluti io ai cani ai bambini e shekani ai gatti alle piante ai bambini chukui tu qui E dunque apri la tua essenza alla loro essenza. Quindi il tuo carattere e il tuo archetipo saluta il loro carattere archetipo. Ogni cosa ha il proprio archetipo e il proprio carattere. Ogni pianta, ogni animale, anche l'acqua, anche ogni elemento. Quindi è il momento di vivere proprio nell'ora e vicino agli elementi della natura. Che ognuno di questo ha il proprio carattere, il proprio archetipo, la propria unicità. È anche un momento per smettere di ascoltare così tanto. I giornali, i telegiornali, cioè i mass media. Usate i social media solo nella misura e nel modo in cui riescono veramente ad accrescere il vostro amore. Riducene l'uso se non fa che aumentare la tua paura e il tuo senso di impotenza. Quindi l'invito è di osservare l'effetto delle cose, quindi in questo caso del consumo dei media che hanno su di te. E poi una volta che hai osservato che effetto ha su di te puoi adattare il tuo comportamento rispetto a queste osservazioni. Io ad esempio sto approfittando di questo periodo, di questo tempo in più, per scrivere delle cose che altrimenti non riuscivo mai a trovare il tempo di scrivere. E un altro effetto del coronavirus e anche del contagio è che apprezzo molto di più le piccole cose della vita. Quindi questi sono i due modi. Uno è di individuarsi in modo psicologico come proposto da Jung. Quindi di trovare la tua libertà nell'individualità, di non essere semplicemente parte della massa. Ma si può farlo semplicemente stando trascorrendo tempo con i propri figli in modo autentico. o con i propri partner, di esplorare anche l'amore e la relazione. In realtà ci sono molti modi. Ok, quindi penso che questo è tutto. E con questo voglio dire semplicemente tu cui a tutti. Non so, Alberto, abbiamo tempo per delle domande o meno? Chiede ad Alberto se c'è tempo per delle domande o meno. Yes, if you want, yes. If somebody has some question, you can answer. Se qualcuno ha delle domande, Michal risponde. Quindi potete scriverle nella chat, le riferiamo. Potete farlo ora. Ok. Direi che possiamo chiudere la registrazione e ringraziare. E poi se qualcuno ha delle domande le allarghiamo successivamente, ok? Sì. Grazie Michal per la tua presenza a Danzare con la Tempesta è stata essenziale. e grazie per esserci. Al prossimo giro in Italia. Grazie Michal per aver presenza a Danzare con la Tempesta. E per la partecipazione. Grazie mille. 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 Grazie mille.